Ogni provvedimento preso dall'arbitro, Castro fa avanzare Mattiello, va assumuto dentro col cross, poi Pellissier! Fusione di Zaymaili, ha sofferto gli attacchi del Chievo e qui Pellissier con un colpo di tacco straordinario va a beffare per il portiere del Genova, cross perfetto di Mattiello e un tacco straordinario di Sergio Pellissier che realizza Grazie a tutti!